Nasce per ribadire l'impegno e la sensibilità della regione nella lotta contro l'HIV, l'incontro organizzato in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS nella sede regionale. Un momento di confronto avviato con la proiezione del filmato, anche io dovrei saperlo, del liceo classico Stabili Trebbiani di Ascoli, nel corso del quale sono stati esposti i dati e i programmi di prevenzione su una delle pandemie più distruttive della storia. La coincidenza di nuovi casi impone di non abbassare la guardia. L'immaginario collettivo, grazie ai grandi progressi che hanno fatto i farmaci, il controllo della malattia, si è pensato a un certo punto quasi che il problema fosse per certi versi risolto. In realtà è evidente che resta ancora molto importante tutta l'attività di prevenzione che permette alle persone di non incontrare questa malattia. E essere consapevoli passa anche attraverso la presentazione dei numeri, facendo vedere quali sono le fasce di età più esposte, quali sono i motivi per cui si contraria la malattia e quindi qual è la prevenzione necessaria da fare. Dopo che è stato emanato il piano nazionale di contrasto di prevenzione della malattia, la regione si è dotata di un proprio gruppo di lavoro, una commissione, che ha promosso interventi e attività che andassero soprattutto in questa direzione. È chiaro che il problema va affrontato anche quando la malattia è conclamata, con i servizi necessari, fornendo farmaci, cure, seguendo i percorsi in termini di tutela e salute, combattendo lo stigma anche nei confronti dell'ammalato, ma resta l'azione più significativa e più importante quella di prevenzione. Qui servono gli incontri con i ragazzi, con le scuole, tutta quell'attività necessaria a far crescere una consapevolezza. È un male molto grave, è ancora presente, bisogna adeguare i propri stili di vita proprio per evitare di caderci, garantendo ovviamente a chi purtroppo ha una malattia sera tutto quello che gli serve. Le Marche hanno sempre rappresentato in Italia una regione a media endemia, cioè in altri termini una regione in cui l'incidenza era a metà tra le regioni a più alta incidenza, come l'Emilia Romagna, come il Lazio, come la Lombardia, e quelle invece a bassissima incidenza, come per esempio alcune regioni del sud Italia, come il Molise o le Isole. La situazione chiaramente è abbastanza sotto controllo, anche se purtroppo il sommerso non viene ancora fuori del tutto. Sappiamo che la malattia è sicuramente curabile, ma non è guaribile. Quindi l'unica azione particolarmente efficace ancora oggi, dopo 30 anni che noi conosciamo questa tipologia di infezione, è la prevenzione. Quindi in realtà dovremmo conoscere il più possibile tutte le persone infette, perché oggi ci sono a disposizione farmaci particolarmente efficaci, farmaci che possono far vivere il paziente sieropositivo abbastanza bene, con qualche effetto collaterale della terapia, che sicuramente però è inferiore rispetto ai farmaci che avevamo tanti anni fa. E soprattutto il concetto fondamentale che si è scoperto e che è venuto fuori da lavori scientifici negli ultimi anni è che il soggetto che non ha la viremia evidenziabile a livello del sangue è un soggetto che non infetta assolutamente. Quindi è un soggetto che non rischia di contagiare il proprio partner sessuale. Questa è una cosa fondamentale che cambia un po' diciamo lo stigma dei pazienti che hanno avuto fino a questo momento.